Clara Poli, a Fiorano Nosterio ci sono due piani integrati importanti che devono essere portati avanti. Eh sì, sono dietro la chiesa e l'ex fonderia fioranese. La commissione ha già valutato tante proposte, sia con il proprietario di dietro la chiesa abbiamo fatto una specie di protocollo. Vedremo adesso cosa andremo a definire, verrà riportato sia in commissione sia in consiglio, poi anche l'altro verrà così valutato e poi faremo un'assemblea pubblica perché come già stato detto tutte queste cose devono essere portate in assemblea pubblica perché questi piani integrati ci permetteranno o di avere delle opere pubbliche che porteranno un valore aggiunto al paese di Fiorano o dei soldi che dovremo poi impegnare in opere pubbliche altrettanto di valore. Devo dire che finora tutto quello che è stato fatto abbiamo aperto un mutuo per la scuola e a breve, cioè a giugno, partiremo con il secondo piano che mettiamo in sicurezza tutta la scuola mentre il primo con la mensa abbiamo già fatto. Però con il secondo piano e con il salone dobbiamo per forza intervenire con la messa in sicurezza e per questo abbiamo aperto un mutuo, ma ci sono tantissime altre opere che sono degne di nota e che dovremmo fare proprio con tutto quanto ci apporteranno i piani integrati. Però ripeto, tutto questo verrà discusso e sviscerato prima in commissione, consiglio, assemblea perché la cittadinanza ha diritto di sapere tutto questo.